ok siamo in procinto di arti però prima dobbiamo venire questo ok questo ok accendiamo il motore starter break e questo e lo starter ottimo ottima condizione ottima bravo allora mi sa che c'è su cosa non è chiaro come si accende ma penso che c'è qualcosa c'è qualcosa non mi sa capisci così così è questo è un po' Grazie. Grazie. Allora, aspetta, qua, come si accende questo? Così, no? Allora, ho perso la connessione, sì, va bene, ma ormai se è una rottura non ti commento neanche più. Due, allora, qua dovrei pestarci... Ok, poi c'è il 3, che non si capisce come si è riuscito. Questo è il raffreddamento, questo è un paradanno proprio. Quanto lavoro? No, ma come premo una cosa, esce. E non parte. Oh, non lo so. 4, allora... Questa è una questione, 5. Oh, è bassa, ho usato la connessione, ma credo. Ok, questo abbiamo fatto. 6, 7, 8, 9, e 0, 8, 1. Mettiamoci qua, anzi, mettiamoci... Come è la rossa? Non lo so. No, mettiamoci la pasta un po' più così. Va bene. Ok. C'è così, no? Ok, partiti. Siamo riusciti. Sta accendendo. Siamo che si accende. E poi ci andiamo. Abbiamo fatto il piano di volo con le carte. Adesso, questa parte da subito, un po'. Allora, questo non sta collegato. Perché? Sincronizza con quello. Eh, perché non lo sincronizza? Perchè non lo sincronizza? Aspetta. Perché non lo sincronizza? Eh... Ma magari mi sposto. Sposto un po'. Sposto un po'. Sposto un po'. Ma magari mi sposto un po'. Quanto un po' più... Sposto un po' più. Grazie a tutti. 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 Allora adesso che è notte andiamo sopra a pomigliare. Grazie a tutti. 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 E anche questi sono dei voli importanti. Grazie a tutti. Siamo appena a mille più... Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Eccoci a tutti. Eccoci qua. Grazie a tutti. 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 qui a tutti. qui a tutti. qui a tutti. Grazie a tutti. qui a tutti. qui a tutti. qui a tutti. Ok. Loih si, l'un d'abalamet l'APH il ra Stafford. Ascipta la montagne. Adesso dobbiamo trovare Capua e poi abbiamo la pista vicino a vicino. Grazie. Ok, da poco arriviamo a capo e diminuiamo un po' il motore e cominciamo a scendere piano piano. Eccolo, siccome già si vede, questa qua di là, vedi? Non dovrebbe essere qui. È troppo visto, se non può essere qui. Adesso dobbiamo girare e vediamo. Eh, secondo me è qui, capisci? Proprio qui, sì, sì. Ok, secondo me è proprio qui. Ok, prepariamoci a scendere. Vediamo se da fuori riesco di più a scendere. Grazie. 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 , grazie. io ho caricato neanche la moto era tutto asfaltato dovremmo arrivare in teoria sulla pista eh ho sbattuto un po' però va bene dai ok bello atterraggio non c'è paura ora la prossima volta faremo meglio